per ragioni di tempo leggerò una versione ridotta del mio intervento. Il testo completo verrà distribuito successivamente. Ministro Rao, signore colleghe, signori colleghi, desidero innanzitutto congratularmi con la presidenza polacca per il costante impegno profuso alla guida della nostra organizzazione in un anno estremamente difficile. Un anno segnato dalla guerra di aggressione russa, ingiustificata ed illegale contro l'Ucraina, che ha scosso le fondamenta dell'ordine internazionale basato sulle regole e che ha messo a rischio la pace e la sicurezza europea e globale. L'Italia condanna nel modo più fermo questa guerra ed ancora una volta chiede alla Russia di porvi fine immediatamente e di ritirare tutte le sue forze e tutti gli equipaggiamenti militari. L'Italia ribadisce anche l'appello alle autorità bielorusse di porre fine alla facilitazione della guerra di aggressione russa. I crimini di guerra commessi contro la popolazione ucraina e la distruzione dell'infrastruttura civile sono una flagrante violazione del diritto internazionale. L'OSCE ha saputo utilizzare gli strumenti a sua disposizione attraverso l'attività dell'ODIER e l'invocazione del meccanismo di Mosca per contribuire in maniera significativa agli sforzi della comunità internazionale volti ad assicurare l'individuazione della responsabilità dei crimini commessi. È innegabile che la guerra abbia avuto un impatto anche sulla nostra organizzazione a livello politico ed operativo. Veti incrociati e posizioni massimaliste hanno finora impedito l'adozione del bilancio per il 2022 creando notevoli difficoltà di funzionamento. Tali atteggiamenti non sono ammissibili. Il bilancio unificato per il 2023 va approvato al più presto e va trovato un comune accordo sulla Presidenza in esercizio per il 2024. L'OSCE è la sola organizzazione regionale che unisce Nord America, Europa, Sud Caucaso ed Asia centrale ed è quindi fondamentale preservarla in questi difficili frangenti. Abbiamo bisogno dell'OSCE per i principi che incarna e la cui osservanza è la sola garanzia di stabilità e sicurezza per i nostri cittadini. Ne abbiamo bisogno per le attività delle istituzioni autonome che aiutano gli stati partecipanti ad attuare gli impegni presi. Ne abbiamo bisogno per le missioni sul campo che svolgono un lavoro particolarmente apprezzato dai paesi ospitanti. L'Italia crede con convinzione in questi principi, sostiene il lavoro delle istituzioni autonome e delle missioni sul campo ed intende continuare ad impegnarsi per salvaguardare il ricco acquis dell'organizzazione. Desidero infine rivolgere alla prossima Presidenza in esercizio della Macedonia del Nord sentiti auguri di successo per il 2024, assicurando fin da ora la piena collaborazione dell'Italia. Vi ringrazio dell'attenzione.